Ormai siamo tutti più o meno tornati dalle vacanze e ci ritroviamo con una pelle abbronzata, qualcuno macchiata e qualcuno molto secca e addirittura con la pelle che si stacca, sono create delle bollicine e inizia a venire via la pelle. Cosa fare? Uno scrub potrebbe andare bene, uno scrub delicato, meglio ancora soprattutto se ti si sta staccando la pelle oppure hai delle bollicine sulla pelle, meglio un peeling enzimatico. Il peeling enzimatico noi lo abbiamo in spray, questo è un peeling eccezionale perché è delicato, lavora superficialmente per disciogliere le cellule morte, va a ravvivare il colorito, a idratare molto la pelle e avrai la sensazione di avere l'abbronzatura ancora più luminosa, ancora rinnovata. Il peeling enzimatico, a differenza del peeling meccanico che è quello classico in crema con i granuli dentro, è un peeling, il nostro per esempio lo andiamo a vaporizzare, è uno spray molto comodo, all'interno ha questi enzimi che sono di papaya e di ananas, quindi papaina e bromelina, vanno a sciogliere le cellule morte. Quindi non avete quella sensazione di andare a scrabbare la pelle ma è come un'applicazione quasi di un tonico sulla pelle. Gli effetti sono incredibili e l'utilizzo lo potete fare una volta alla settimana, dipende anche dalla sensibilità della vostra pelle. Una pelle che non è particolarmente sensibile col nostro peeling può usarlo anche due volte a settimana, soprattutto adesso che siete tornati dalle vacanze. Se volete fare un trattamento d'urto, sarebbe anche cosa indicata dopo le vacanze, potete prenotare un trattamento in cabina. Per quanto riguarda il corpo, invece che un peeling enzimatico, faremo un peeling con l'acido mandelico. È un peeling in gel, l'acido mandelico è uno degli acidi della frutta che non è fotosensibilizzante, quindi in questo momento va benissimo anche se c'è il sole farlo. Sul viso invece facciamo un peeling particolare, sempre enzimatico, ma in polvere che diventa una schiuma che viene poi applicato sul viso e lavorato per andare anche lì a eliminare le cellule morte e stimolare il turnover cellulare. Anche in questo caso andiamo a idratare, a nutrire e a rimpolpare la pelle con una maschera a base di acido ialuronico, quindi un super trattamento anche per il viso. Sia il trattamento per il corpo che il trattamento per il viso hanno un costo di 59 euro l'uno, fatti entrambe insieme avranno un costo invece di 98 euro. Sia il trattamento per il viso hanno un costo di 50 euro.